Mercoledì 7 agosto alle ore 21 al Teatro del Mare di Montesilvano si svolgerà il Premio Internazionale Dean Martin giunto alla dodicesima edizione. Il prestigioso cappello verrà consegnato a sette personaggi che si sono distinti nella loro professione, nelle attività culturali, imprenditoriali e sociali nei vari paesi del mondo o nelle regioni italiane dove attualmente risiedono. Il Premio Internazionale Dean Martin è organizzato dall'omonima fondazione con il contributo del comune di Montesilvano e il patrocinio dell'assessorato regionale alla cultura del consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo e della provincia di Pescara. Come è noto le origini di Dean Martin sono proprio montesilvanesi. Alessandra Portinari presidente del Premio. Premiati quest'anno sono Matteo Brancaleoni che è un crooner, lui è di origine, è torinese di origini ed è proprio la perfetta, segue proprio l'eredità di Dean Martin e poi ci sarà direttore della Banca d'Italia a New York e a Londra Luigi Marini e poi ci sarà Lara Molino che è una cantante, cantautrice ed interprete e fa numerosi studi sulle canzoni di tradizione popolare abruzzese e così come premieremo anche Albano Paolinelli che è un artista molto conosciuto qui sul territorio, è stato addirittura anche l'insegnante di Andrea Pazianza e poi c'è un attore americano di Hollywood, origini pescaresi, si chiama Gianluca Di Medio. E infine due rappresentanti dell'associazione abruzzese molisana del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché Levino Di Placido, presidente dell'associazione abruzzese La Maiella a Charleroi e sindaco di Penna Piedimonte. Tra i premiati anche Simona Molinari, cantatrice e musicista nata a Napoli, ma aquilana e abruzzese di adozione. Intanto io sono veramente contenta di essere stata invitata per questo premio, di ricevere questo premio, primo perché l'Abruzzo è la terra dove mi sono formata e dove sono cresciuta, quindi sono legatissima a questi luoghi. E poi perché Di Martin è sicuramente un musicista che ho ascoltato tanto e che conosco e che è nelle mie corde, se vogliamo, quindi insomma è un premio che mi rappresenta perfettamente.